Musica Martedì 12 giugno in primo piano nel TGL News il telefono azzurro che nel 2017 ha trattato 20 casi di violenze, abusi o problemi legati al bullismo e difficoltà relazionali nella nostra provincia. Le chiamate al telefono azzurro hanno tuttavia permesso l'attivazione di servizi per 12 casi di cui due presi in carico dalla Questura di Piacenza. Diverse le chiamate anche alla nuova linea 114 Emergenza Infanzia che ha permesso di far emergere 8 situazioni critiche di cui una presa in carico dai servizi sociali. Tutti i dettagli sul nostro sito liberta.it. Parliamo ora della questione relativa al nuovo ospedale, non ci interessa dove, l'importante è realizzarlo. Queste le parole di due primari decani dei reparti dell'attuale Guglielmo da Salicetto, il gastroenterologo Fabio Fornari e l'oncologo Luigi Cavanna. La scelta della sede sostengono i due primari, deve essere una decisione della politica, l'importante però è che non venga immessa in discussione la sua realizzazione. Secondo Fornari e Cavanna infatti l'attuale ospedale presenta diverse criticità e carenze per i legenti. L'arrivo della bella stagione ha riempito le strade di campagna di ciclisti appassionati delle passeggiate, uno dei percorsi sicuramente più semplici dovrebbe essere quello che porta da Vallera a Gossolengo. Il condizionale è tuttavia d'obbligo perché, come segnala un lettore a tu cronista chiocciolatilaliberta.tv, la strada è in realtà costellata di insidi. Appena fuori la frazione del cittadino ci si imbatte in un palo praticamente coricato. Proseguendo poi la strada diventa un vero e proprio campo minato pieno di buche enormi e profonde. Passarsi con la bicicletta è davvero pericoloso, sottolineano i ciclisti della zona. Chiudiamo con lo sport e più precisamente con il calcio. Rimane ancora piuttosto incerta la situazione legata al futuro del proprio Accenza. Nulla trapela per il momento la via de longe, anche se stando alle indiscrezioni raccolte. Dopo l'annuncio del presidente Alberto Borzoni di procedere con l'addio al club rosso-nero, l'ipotesi di un accordo con Limolese che avrebbe potuto usufruire del titolo sportivo del Pro sembra ormai sfumata. Pare invece che domani sia in calendario un importante incontro con alcuni soggetti che avrebbero manifestato un tiepido interesse a rilevare il club. Scarse le notizie, ma sembra che si tratti di un'accordata alla cui guida potrebbe esserci Massimo Londrosi, in passato anche dirigente e socio del Pavia Calcio, trattativa in corso tuttora per la quale ci potrebbero essere novità a breve. La nostra edizione termina qui, il prossimo appuntamento con il TGL alle 13.15.